Salve, sono l'avvocato del dottor Ping che intende rilevare tutta la lavassa. Grazie, ma non è in vendita. Occhio, eh? Questi qui c'hanno la grana. Cimbugrana? Sentite cimbugrana? Grazie, no. Paradiso nemmeno. Cimbugrana? Cimbugrana con qualcosa devono andare via, eh ragazzi? Se non potete comprarvi il paradiso, a Natale comprate la nuova Jolie Plus. Fidati Ping, hai fatto un affare. Cimbugliesza! Jolie Plus, l'oggetto più desiderato del Natale.